Le cinque mosse del latino, una serie di video dedicati alla messa a punto di una strategia utile per affrontare la traduzione dei testi latini. Oggi ci occupiamo di un passo di Cornelio Nepote. Eccoti prima di tutto l'elenco delle cinque operazioni, le cinque mosse, attraverso le quali passeremo prima di arrivare alla definizione del senso del passo. Questo è il testo che andremo a tradurre. Le cinque fasi sono l'analisi del periodo, l'analisi della frase, la costruzione della frase, la proposta di traduzione e poi la verifica del senso. La prima operazione che vado a compiere è quella di individuare i predicati verbali. Quindi man mano che li troviamo li segniamo. Proficiscatur, decernitur, dantur, prestantes, una forma di participio, erat, verbo essere, esset, verbo essere, un congiuntivo imperfetto, recuperari, un infinito presente e passivo, profetti essent, un congiuntivo più che perfetto, di proficiscor, verbo deponente, lo stesso verbo è qui coniugato al congiuntivo imperfetto, acidit, un indicativo perfetto, appropinquarent, un congiuntivo imperfetto come pure orirettur, appropinquarent, da propinquapropinquare, orirettur, da orior, oriri, sortusum, oriri. Ancora, nell'ultima parte, evitare arbitrati, che è un participio perfetto di un verbo deponente, arbitror, che significa ritenere, e la versione si conclude su suppresserunt, che è un indicativo perfetto. Per ogni verbo dobbiamo considerare che ci sia una frase, e quindi a questo punto dobbiamo individuare i connettivi o le congiunzioni. C'è questo et, che evidentemente legherà i due verbi. Ah, ho dimenticato all'inizio creatur, eccolo qui, mi era sfuggito creatur, rimedio subito, poi c'è l'et, che abbiamo detto, e così proseguiamo con lo stesso esercizio, che è ut, abbiamo qui l'ut, e quindi è un ut con il congiuntivo presente, dopodiché il connettivo successivo è questo quad, che vedo qui giù, e poi quad può essere causale, di solito come quia, quognam, quad, e vale per poiché. Poi c'è l'ut, che però è anticipato da questo tanta, quindi ut esset, sarà un ut consecutivo. Poi c'è profetti essent, che è retto da questo cum, come il successivo proficisceretur, quindi è coordinato da let, quindi abbiamo due proposizioni coordinate narrative. l'acidit invece è il verbo principale, il cum mi regge la narrativa, che è a propinquarent, e poi ut ancora, e ori retur, e questo ut evidentemente va ricollegato ad acidit, aciditut introduce una frase dichiarativa, accadere che nella parte finale non ho connettivi. A questo punto devo occuparmi dell'analisi logica, vale a dire dell'analisi all'interno di ogni singola frase. In questa fase è importante che io verifichi sul dizionario le costruzioni dei verbi, i significati delle preposizioni, poi anche, semmai, alcuni costrutti particolari. Dunque, creatur ha come soggetto menesteus, che è menesteo il nominativo, e creo nel senso di creare e leggere, e quindi il pretor si configura come un complemento predicativo del soggetto, è menesteo che è eletto e comandante. Poi c'è filius, che è un nominativo, è una posizione di menesteo, in quanto si legge che è figlio di Ficrate, ed è genero di Timoteo, con un genitivo. E poi c'è decernitur. Il significato di decernitur, ci aiuta la pagina del dizionario, è quello di decidere, deliberare. E come tale, come verbo di comando, allora si costruisce con lut, che è un lut volitivo. E quanto alla traduzione di questo decernitur, meglio che è deciso, si decide, vale a dire la forma passiva sta per la forma impersonale. E allora potrebbe essere anche quello precedente, da tradursi menesteo si elegge comandante, oppure menesteo è eletto comandante, anche al passivo, e questo secondo verbo invece lo rendiamo con l'impersonale. E si decide che, si decide, proficiscatur, che parte evidentemente, ad bellum, è un complemento di fine, espresso con ad e l'accusativo. Poi abbiamo dantur, che è un passivo, un indicativo presente terza persona plurale, che ha come soggetto questo duo, che è un numerale, due, tipo vengono dati due. uic è un dativo, quindi un complemento di termine, da ic e coc, vale come a questi, oppure a costui, perché ha valore di pronome, in consiglium, mot a luogo figurato, anche qui sembrerebbe stare per un complemento di fine. Abbiamo prestantes, che è un participio unito al duo, che poi questo duo si esplicita, dal pater et socer, che è indicato poi, e prestantes, presto prestare, ci aiuta il dizionario, significa sì garantire se è transitivo, ma in transitivo vale come eccellere, essere prestante, appunto, e quindi questi due, uso et sapientia, anche questo andava assegnata come congiunzione, questi due valgono come complementi di limitazione, questo è il significato, quindi vuol dire prestanti quanto a esperienza, uso vale come esperienza, e a saggezza. Poi c'è un quad che, con tutta probabilità, lo dicevamo prima, è un quad causale, quad autoritas, soggetto, in his, complemento di stato in luogo, erat tanta, predicato nominale, ut, magna spes esset, è la frase consecutiva, magna spes è il soggetto, e dunque c'è grande, c'è la grande speranza che, e allora abbiamo il recuperare, che è il verbo dell'infinitiva. Amissa, evidentemente, è un participio perfetto passivo, da amitto, amittere, che in questo caso è usato come sostantivo, quindi abbiamo un participio sostantivato. Approfitto per ricordare che quello precedente, prestantes, sembrava un participio attributivo, vale a dire col valore di una proposizione relativa, vale a dire eccellenti, oppure che eccellevano. Invece questo amissa, sono amitto e perdere, quindi amissa sono le cose perdute, ed è il soggetto di questa infinitiva, amissa, recuperare il predicato verbale, e per eos, issei dell'accusativo, per con l'accusativo si usa per il complemento di mezzo quando è rappresentato da persona. Procedendo, mi imbatto in un i, che evidentemente vale come soggetto del profetti essent, c'è una narrativa, quindi cum i, profetti essent, poi c'è samum, è l'isola di Samo, è un complemento di motto al luogo, all'accusativo, e poi c'è un et, per cui abbiamo cares, che è il nominativo soggetto del secondo congiuntivo, proficisciaretur, cum sui scopis, complemento di compagnia, e odem, è l'avverbio di luogo, significa verso il medesimo luogo. Poi c'è acidit, al quale possiamo restituire il colore originario, acidit ut, abbiamo qua sotto, magna tempestas, è il soggetto di oriretur, e incastonata c'è la narrativa, cum appropinquarent, ad insulam moto al luogo. E poi ancora, il soggetto del suppresserunt è duo veteres imperatores, evidentemente riferito ai due di cui si diceva sopra, che cosa fecero? Di fatto suppresserunt, suam classem, supprimo nel senso di fermare, arrestare, e quindi suam varrà come loro flotta, non sua flotta, perché è il pronome possessivo riflessivo, riferito al soggetto, quindi la loro flotta, e ho lasciato per ultimo questo arbitrati, che è da arbitror e significa ritenere, quindi avendo ritenuto, in questo caso invece un participio congiunto, vale a dire un participio che sta per un verbo, si traduce in prima battuta con un gerundio, avendo ritenuto utile, è un CPO, un complemento predicativo dell'oggetto, che cosa? Evitare e poi eam, evitarla in riferimento alla tempestas. Tutta la fase fin qui svolta ci ha consentito di capire come gli elementi si collochino all'interno della frase, ma in questa slide, graficamente, possiamo vedere sulla destra come i termini vadano ordinati. E' il lavoro che abbiamo già fatto in precedenza, ma in realtà qui vediamo proprio i termini posti, collocati nella stessa successione in cui poi andrò a tradurli. Quindi menesteus, apposizione, figlius ificratis, e ancora gener timotei, creatur pretor, et decernitur ut, e proficiscatur ad bellum. Duo, pater e socer, prestantes usu et sapientia, dantur uic in consiglium, quod auctoritas in is erat tanta, ut magna spes esset, e poi ordinato l'infinitiva, ammissa recuperari per eos. Cum hi, questo i che è il soggetto, l'ho messo dentro la narrativa, cum i profetti essens samum. E poi c'è, et cares, proficisceretur eodem, cum sui scopis, acidit, e poi, metto subito la narrativa, cum propinquarent ad insulam, ut magna tempestas oriretur. Duo veteres imperatores, arbitrati utile evitare eam, supresserunt suam classem. E adesso possiamo, con tutto agio, possiamo andare a tradurre quello che adesso ho disposto nello stesso ordine, in cui poi vedrò i termini nella mia frase italiana. Menesteo, figlio di Ficrate, genero di Timoteo, viene eletto comandante, e decernitur, e si decide che parta per la guerra. A costui uic vengono assegnati, vengono dati per il consiglio, cioè come consiglieri, due uomini, il padre e il suocero, eccellenti per esperienza e per saggezza, poiché in questi era così grande l'autorità che c'era una grande speranza, oppure che era grande la speranza che i beni perduti venissero recuperati, oppure si recuperassero grazie a loro, tramite l'oro. Cum i profetti essent, essendo questi partiti, meglio, dopo che costoro erano partiti alla volta di Samo, e carete partiva, quindi devo mettere un'altra congiunzione, prima usato dopo che per l'anteriorità, qui invece metto un mentre, un quando, e quando carete partiva per la medesima località, per il medesimo luogo, con le proprie truppe, accadde che, metto subito il che, mentre si avvicinavano all'isola, sorgesse una grande tempesta. I due vecchi comandanti, avendo ritenuto utile o ritenendo utile evitarla, arrestarono la loro flotta. E nell'ultima fase, prima di consegnare la traduzione, dobbiamo verificare di aver compreso effettivamente il senso. Qui si parla di menesteo, si specifica di chi è figlio e di chi è genero, e si dice che è stato eletto comandante e che è stato assegnato alla guerra. Si decide che parta per la guerra. Con lui ci sono due uomini che sono persone eccellenti, che godono di grande autorità e dalla cui azione si conta di poter recuperare ciò che è andato perduto. Ma la situazione è questa. Loro si portano verso Samo e altrettanto fa carete un altro personaggio. Ed accadde che mentre si stavano muovendo alla volta dell'isola accadde che sorgesse una grande tempesta per la quale i due anziani comandanti ritengono che sia il caso di evitarla e pertanto decidono di arrestare la loro flotta. a